Vertice in prefettura decise investimenti in denaro e in strutture per aumentare la percezione della sicurezza. Rispetto al 2019 furti, rapine e distorsioni sono diminuiti di quasi il 50%. Ce ne parla Maria Valeria Vendemmia. Nonostante la percezione di insicurezza tra i cittadini sia aumentata, la situazione reale è tutt'altra. A Torino il numero dei reati predatori nel 2022 è diminuito di quasi il 50% rispetto al 2019, periodo pre-Covid. Sono i dati snocciolati dal prefetto Raffaele Roberto, a margine del vertice sulla sicurezza tra forze di polizia e istituzioni tenutosi stamattina nella sede della prefettura in Piazza Castello. A Torino c'è una diminuzione tra il 2019 e il 2022 di quasi il 50% dei furti e del 27% dei reati, quindi molto al di là della percezione comune. In particolare salta agli occhi il dato sugli stupefacenti che nel capoluogo tocca una diminuzione dell'80% a fronte di meno 38% in provincia, dove invece aumentano le rapine del 20%, numeri che sono il segno per il prefetto che si sta andando nella direzione giusta. Intanto, mentre sotto si svolge un sit-in delle forze di polizia della CGL che chiedono rinnovo del contratto e più uomini, il presidente Cirio annuncia nuovi investimenti e il prefetto i gruppi di vicinato per il controllo del territorio a partire dai cittadini. Ci sono alcune proposte di alcune associazioni che vorrebbero dar vita a dei gruppi di vicinato, che sia io che il questore guardiamo con favore. Tra le novità illustrate una centrale di videosorveglianza intelligente che sfrutti l'intelligenza artificiale per prevenire l'insorgenza dei reati.